La frase del Don, eccoci qui. Pronto? Sono qua, sono qua. Buongiorno. La frase non è mia, ma è bella. Il mio lavoro è dare un volto alla bontà. Il mio lavoro è dare un volto, è vero, alla bontà. Bel proposito. Lavoro per dare un volto alla bontà. Bene, come sempre un pensiero così per illuminare le mattinate dei nostri ascoltatori. Grazie Don. Ciao.